Tu che vuoi fare da grande? Non sono sicuro di te, però in realtà siamo già grandi. Dai Paolo, hai capito, no? Ce l'avrai dei sogni nella vita? Io preferisco stare un po' più con i piedi per terra. Io non ci credo che sia così. Ma in realtà da bambino volevo fare il falegname, poi dopo l'architetto, un po' come evoluzione. Paolo, non va bene così. Va bene così. Non va bene così. Non va bene così. Non va bene così, Paolo. Non va bene così. Non va bene così, per chi è? Non va bene così. 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 Capito? Grazie a tutti.